ciao ciao a tutti bentornati nel mio canale oggi unboxing del sito elbeez mi è arrivato un pacchettino ho scelto un bel po di cose in collaborazione adesso vi mostro cosa ho scelto il pacchettino è arrivato esattamente in 13 giorni lavorativi adesso vi mostro cosa ho scelto dal sito di elbeez aspettate ovviamente c'è la prurible adesso scarto il tutto e ritorno da voi rieccomi allora questo è il capitolo di tutti i prodotti che ho scelto sono esattamente 18 prodotti che ho scelto dal sito di elbeez e il sito mi ha dato anche un codice sconto per i miei iscritti se volete utilizzarlo il codice è g a d 3 o f f ed è il codice sconto del 3 per cento senza minimo di spesa adesso vi mostro cosa ho scelto io ho scelto sia materiale per quanto riguarda la resina cioè stampini e decorazioni varie e sia peorline e minuteria adesso vi mostro questo è il primo prodotto che vi mostro sono due stampi per la resina questo è il codice del prodotto ne ho presi esattamente due e sono degli stampi per realizzare dei fermacapelli ci sono tre varianti di fermacapelli io mi sto impazzendo con questi fermagli infatti già l'avevo realizzati un bel po di tempo fa e adesso li ho ripresi nuovamente perché voglio fare altre versioni di questi fermacapelli poi per quanto riguarda la resina ho preso anche questo stampo qui questo il codice e sono appunto degli stampi per realizzare dei cuoricini tolgo tutto dalla bustina lo stampo per realizzare diverse tipologie di cuoricini due grandi in due versioni differenti questo è più bombato questo invece più lineare e poi ci sono anche i piccini picciò davvero molto carino questo stampo questo è il codicino poi vi mostro anche questi altri stampi questi anche molto carini ho presi sempre in coppia e sono di queste forme appunto ecco qui quadrate cioè il quadrato sia grande piccolo ci sono sia quelli piccini per creare degli orecchini al lobo oppure per creare dei pondenti o dei cabochon e ne ho presi appunto due per fare le coppie dei cabochon oppure di orecchini è davvero molto molto carino ed è versatilissimo questo stampo poi vi mostrerò come andrò ad utilizzarlo poi ho preso anche nuovamente i flakes questi qui argento mi mancavano e quindi li ho ripresi questo è il codice del prodotto poi ovviamente tutti i link di tutti i prodotti vi lascio anche in descrizione insieme al codice sconto e poi ho preso anche questo stampo che è adorabile è davvero adorabile e per creare uno specchietto a forma di gatto questo è il codicino e ve lo straconsiglio perché è stupendo cioè non vedo l'ora non vedo l'ora di realizzare il mio specchietto a forma di gattino aspettate che vi apro la confezione ed ecco qui lo stampo cioè non è un amore uno specchietto a forma di gatto con le orecchiette davvero adorabile e all'interno della confezione escono esattamente tre stampi tutti quanti ovviamente uguali quindi andremo anche a realizzare un graziosissimo specchietto da borsetta che adoro io ne ho sempre uno all'interno della mia borsettina insieme ovviamente le chiavi e il cellulare che sono fondamentali il resto si può anche lasciare a casa adesso vi mostro anche il vetro per andarlo ad inserire sempre qui all'interno del aspettate che ce l'ho in quest'altra bustina dove c'è altro materiale ne ho presi se non erro quattro di questi vetrini questo è il codice e sono appunto adatti per realizzare questo stampo questo è il vetro che poi andrà all'interno ovviamente qui c'è la patina che poi va eliminata e c'è appunto vedete lo specchietto davvero molto molto carino e questo poi una volta realizzata appunto la parte con la resina decorata andrò andrò poi a mettere questo all'interno questo ve lo straconsiglio c'era anche la forma della conchiglia e se non erro anche un altro soggetto oltre al gattino quindi potete tranquillamente guardare nei link in descrizione così vi metto tutti i link inerenti appunto allo specchietto adesso vi mostro tutte le altre cosine che ho scelto come vi dicevo prima gli specchietti ne ho presi diversi infatti eccoli qua se non ero ce n'è anche un altro sono esattamente quattro eccolo qua più quello che vi ho mostrato prima ho preso esattamente quattro specchietti ed eccoli qua tutti quanti ovviamente lo stesso codice perché voglio realizzare diversi specchiettini poi ho preso queste decorazioni sempre per mettere all'interno della resina e anche partono come decorazioni per le unghie quindi volendo posso utilizzarle anche per le unghie vedete questo è il codice io le pensavo anche all'interno della resina UV o della resina epossidica sono davvero carine con le foglioline i fiorellini molto molto carine ne ho prese due confezioni infatti eccole qui davvero carinissime poi ho preso sempre per la resina questi che sono appunto i cancini questo è il codice sono in acciaio questo è il codicino e li ho presi anche un altro pacchettino di questi qui dorati e anche in argento questo è il codice in argento all'interno di questo qui argentato ci sono 20 pezzi stesso discorso anche per questi qui dorati siccome utilizzo tantissimo loro ho preso due confezioni di questi qui appunto dorate quindi 40 pezzi di questi gancettini che sono strastra utili per chi realizza realizza oggettini sia in resina epossidica e sia in resina UV poi ho preso anche questo stampino molto molto carino questo è il codice e per creare delle zampettine e delle faccine di gatto e questo lo pensavo per utilizzarlo ovviamente insieme allo specchietto quindi realizzare non so una zampina per poi per poi incollarla con o con la resina o con la colla davanti allo specchietto davvero molto carino tipo in 3d realizzare o le zampine piccole o la zampina questa qui grande oppure questo micro visetto di gatto e lo trovo adorabile anche questo stampo e poi ho preso aspettate un po' di cosine allora ho preso un po' di orecchini allora ho preso questi qui questo è il codice e sono degli orecchini a cerchio a 3 vedete sono davvero carinissimo sempre in acciaio dorati sono stupendi questi orecchini e li ho presi anche a 2 a 2 cerchietti sono sempre uniti vedete sono 3 cerchietti uniti e li ho presi anche a 2 quelli a 2 li sto indossando proprio adesso infatti me lo tolgo così ve lo mostro questo è il codice di quelli lì a 2 si questo qui questo è il codice ed è questo qui sono stra stra comodi io li ho indossati stamattina per vedere appunto se mi fanno allergia ma sono in acciaio quindi sono perfetti non mi fanno allergia e li ho indossati questi qui a 2 vedete sono due fascette in acciaio congiunte in questo modo sono davvero carini 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 aspettate che lo rimetto di nuovo poi io adoro i cerchietti in qualsiasi genere forma quindi li ho presi anche 3 sono davvero davvero carini ve li straconsiglio e poi sono in acciaio dorato non so se rende in videocamera perché adesso ho il faretto puntato e quindi qualsiasi colore sembra un po' strano e poi ho preso anche questi altri cerchietti questo è il codice e questi sono dei cerchietti sempre in acciaio però con colorati ci vanno tantissimo questi elementi in acciaio con questa patina rainbow e sono stupendi sono variano appunto dal viola al verde al blu sono davvero davvero spettacolari molto molto belli questi me li immagino già quest'estate questi orecchini e magliettine svolazzanti molto molto carini e quindi sono sempre in acciaio e questo è il codice ovviamente questi li rimetto di nuovo all'interno e poi li metterò nel mio portagioie di resina e poi vi mostro le altre cosine allora ho preso anche questi cabochon qui da 12 mm questi sono dei cabochon colorati in resina e sono davvero davvero carinissimi ci sono di tanti colori e li pensavo sempre come decorazione per lo specchietto per dare quel tocco di luce appunto allo specchietto una cosa colorata, carina, pucciosina e quindi ho preso questi cabochon che all'interno no, dicono che sono 10 grammi quindi sono un bel po' di cabochon all'interno perché non pesano nulla sono stra stra ligerissimi e quindi ho preso anche questi qui che volendo si possono anche ovviamente se c'è la coppia si possono anche realizzare degli orecchini a perno carinissimi, semplici poi oltre a questi ho preso anche questi altri orecchini sempre questi sono dei perni sempre in acciaio questo è il codice e sono fatti in questo modo aspettate che vi parlo qua dalla bustina eccoli qua hanno appunto la forma quadrata con l'anellino in basso e tutti questi zirconcini crystal e questo e l'altro ovviamente hanno sempre la farfallina sul retro e sono davvero adorabili molto molto carini vedete eccoli qua poi vi mostro anche queste decorazioni questo è il codice e sono delle piccole toppe a forma di gattino quando ho fatto quest'ordine gattini ovunque quindi ho preso anche queste queste toppe davvero molto molto carine sono adorabili sono fatte così sul retro e ovviamente poi uno le può cucire oppure incollare dove vuole su uno zainetto, una borsa anche una maglietta perché no sono carinissimi sono pucciosini hanno gli occhietti carini carini sono teneri teneri e sul sito di Elbiz ce ne sono tantissime toppe di questo genere quindi tantissime forme forma di arcobaleno cioè ce ne hanno tantissime forma di cuoricino e poi ho preso anche due pacchettini di Rokail della Miyuki ho preso queste questo è il codice sono le 521 e sono le Eucalyptum Eucalyptus sì Selion scusate la pronuncia ma non un po' strano e queste sono le perline molto carine un colore particolare e poi ho preso anche queste queste sono le Tia Rose Selion le 543 e sono questo bellissimo colore pesca molto molto carine i pacchettini ovviamente su questi qui sono da 10 grammi e niente ragazzi queste sono tutte le cosine che ho scelto dal sito di Elbiz diverse cose sia per la resina e anche qualche perlina ne sto prendendo poche di perline perché ho tantissime colorazioni e ho i contenitori tutti quanti pieni e quindi pian piano andrò a riprendere qualche altro colore e quando le vado ovviamente a smaltire questo mi piaceva tantissimo quindi non ho non ho potuto rinunciare a questo a questo stampo e niente sono davvero soddisfatta di quello che ho scelto dal sito di Elbiz spero che questo video sia stato di vostro gradimento lasciatemi un like e un commentino io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuovi video ciao